Innamorati a Napoli, ma soprattutto innamorati di Napoli. La festa di San Valentino in città si riempie di eventi dedicati all'amore e alla scoperta delle ricchezze artistiche e culturali del territorio. Venerdì 14 febbraio sono previste mostre, concerti, visite guidate a tema, proiezioni ed aperture straordinarie dei musei. Il programma delle iniziative è organizzato dal Comune con l'Accademia di Belle Arti, la collaborazione delle soprintendenze e degli operatori del settore turistico. Per questa occasione vogliamo mettere in mostra lo straordinario patrimonio culturale ed artistico della città, quindi insieme al MIBAC e alle soprintendenze che in quella giornata permettono di accedere e visitare i monumenti con la famosa formula che in due si paga un solo accesso. Il Comune di Napoli, con tutte le istituzioni culturali, musei e anche privati, terranno aperte le strutture fino a mezzanotte e in ciascuna delle strutture saranno delle sorprese relative appunto al tema dell'amore e degli innamorati, per fare in modo che sempre più si consolidi e si rafforzi l'amore per Napoli. Per l'intera giornata si entrerà in coppia con un unico biglietto nei luoghi d'arte statali, resteranno aperti fino a mezzanotte alcuni dei principali musei cittadini e a tutti gli innamorati che volessero trascorrere un San Valentino insolito anche la possibilità di un giro in bicicletta per la città organizzato da Bike Tour Napoli.